Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta in salsa di fiori di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono pasta, scalogno, fiori di zucca, olio evo, acqua, parmigiano, tuorli, basilico, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Mettere nel boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi, velocità 3. Aggiungere i fiori di zucca e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola e ripetere l'operazione tritando per altri 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'acqua, il sale, il pepe e cuocere per 10 minuti 100 gradi, velocità 1. Aggiungere i tuorli, il parmigiano ed amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Versare la salsa in una ciotola capiente. Scolare la pasta ed amalgamare con del basilico tritato. Pasta in salsa di fiori di zucca. Grazie e alla prossima ricetta! A presto! 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 A presto!